Il diritto al cibo entra negli statuti delle regioni italiane sul modello di quanto già fatto dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e quanto emerso ieri a Milano nei padiglioni dell'Expo nel corso della seduta plenaria della conferenza delle assemblee legislative italiane a cui ha partecipato il Presidente Giuseppe Di Pangrazio accompagnato dal Vice Presidente Lucrezio Paolini e dal Consigliere Segretario Alessio Monaco. Alla riunione convocata dal coordinatore della conferenza Erosbrega è intervenuta Diana Bracco, commissario del Padiglione Italia dell'Expo che ha rimarcato il ruolo delle regioni nella promozione di politiche volte a garantire il diritto a un'alimentazione adeguata dei cittadini. Di Pangrazio nella sua relazione ha sottolineato come l'Abruzzo, prima regione in Italia, abbia già votato il 10 marzo scorso l'inserimento di un nuovo articolo nel prego statuto che va proprio in questa direzione. Abbiamo voluto lanciare un messaggio, ha sottolineato il Presidente, il diritto al cibo infatti non è solo diritto al sostentamento ma anche alla salute e alla dignità stessa dell'individuo. Nei mesi scorsi il Ministro Maurizio Martina aveva parlato della necessità di inserire il diritto al cibo nella Costituzione italiana. In Abruzzo, ha concluso il Presidente, abbiamo raccolto l'invito inserendo questo diritto nella nostra carta fondamentale. Le parole di Di Pangrazio sono state da ulteriore stimolo alla conferenza che ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna i consigli regionali di tutta Italia a seguire l'esempio abruzzese e a introdurre nei rispettivi statuti il principio del diritto al cibo. Grazie. Grazie.